Assessore, un bel momento di promozione per il Festival Internazionale di Nervi, ma anche un bel momento per la città? Sì, è un evento collaterale di quello che tra qualche settimana, tra due settimane, sarà l'inizio di un grande evento, che è il Festival Internazionale di Nervi, uno degli eventi più grandi, più importanti della nostra città, che vedrà finalmente ritornare Nervi come grande palcoscenico a cielo aperto per spettacoli di danza, musica e canzoni. Cosa c'è il prossimo appuntamento col Festival? Il 2 luglio, con Giorgio. Grazie.